super classifica show. Allora ragazzi, pronti per un nuovo appuntamento? Sì! Se ci siete dite ci siamo! Ci siamo! Se io vi dico eh voi mi dite! Eh! Se io vi dico eh 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 voi mi dite! Oh 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 Sorbetto! Ora vediamo se siete ignoranti. Eh? Prodiamo con le consonanti. Eh? Se io vi dico C'è la mamma mia. No, no, no. No rutine. No, no, no. Se io vi Dicoci, voi dovete dire, siamo! Anche lui lo fa! Yes, ci siamo! Cosa c'è il venerdì? A luci rosse! Cosa c'è il venerdì? La classifica di Rottovoi! E allora, cosa c'è di meglio di una hit a luci rosse? Per iniziare la nostra classifica? Lo stavamo aspettando da tempo! Il nuovo lavoro made in AQPP! Noi! Raffaella e mia! Parodia dell'anonima canzone di Iniziano Ferro! Omonima, ma quale anonima? Super Mario Maroltelli! Questa è per te! Siamo alla numero tre, non è male! Siamo entrati in classifica, il nostro successo è fuori le mani dal finestrino! Let's go! Lei diceva... Mentre tu sparavi i body, io ci ho preso proprio gusto e quindi... Flori, sì, sì, sì! L'ho scondata... Sì, sì, sì! L'ho crepata, devastata, ma alla fine si è divertita! Mentre tu vai in Lamborghini, la tua donna fa i pochetti! Che non puoi dimenticarli, ma tu continui a giocare alla play che come il mio non la avrai mai! Mai! E Raffaella canta a casa mia! E Raffaella balla a casa mia! E Raffaella è mia, 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 mia! E tutto è vicinato! Cosa fa? Ascolta il repertorio, che canta solo per me! Che pezzo, ragazzi! Yeah! Sento odore di hit un'altra volta! Andio! Ma noi continuiamo! Per una napoletana che non si risparmia! Grazie! E che un altro che non si tira mai indietro! Quando si tratta di mangiare, però! Stabile al secondo posto... Lucio Mario! In arte, piccolo Lucio! Oh, mi piace a Nutella! Mi piace questa! No, basta Ruttino, dai! No, no, no! Mi son mangiato un vasetto intero in due giorni! Let's go! Quelle allegria questa! Yama Baesa! Yama Bello! Yama! L'inzalatina no, mi piace! L'inzalatina no! E' anche un maccaruno! Alzate il volume del vostro stereo! In fuori il braccio dal finestrino! E la cantiamo tutti insieme! E' anche un maccaruno! Uh! E' merendini in guante! In guante! L'inzalatina no, d'allè은 est stretto! Non è la vita fa mana! Mama da frise il banchino e non bonito! At Mother AC 여 va fa mangiare! Magari non o face sti con si vai ô Eyes tu mi chesne.. N'o spreLA DILA Camuta, Delda! A ticci dava la rolla s'contine, un 얼마나! Mi ha fatto venire una fame Lucio Vario Ma quanto pesa questo ragazzino Se indovinate Vi regaliamo un po' di pastarelle No grazie Ora però Non c'è tempo per mangiare Perché dobbiamo andare a vedere Chi c'è alla numero uno di questa settimana E chi c'è? Ancora lui, Tiziano Ferro Un grande salto Dalla terza posizione Direttamente alla prima Opera di un autore sconosciuto Vai con da dietro Una canzone d'amore Questa mi piace Mi piace Oggi si Numero Uno Let's go Ricevo un vibratore per Natale Anche lui Apro il biglietto e leggo baci da Pasquale Pasquale che? E provo insieme ad altre due persone Straiato a pecorino Sopra il cornicione E adesso Mi piace Ad amore Da quella volta che in casa è ma nella doccia Mi son chinato a cogliere il sapone Che succede? Che succede al mio bucchetto? Brucia come un caminetto Son diventato donna e ora canto il falsetto Adesso mi piego Adesso mi piego Da dietro Se anche voi preferite i boxer alle mutandine Inventatevi la vostra parodia e pubblicatela sul Facebook di A qualcuno piace presto! Grazie Rotto Oppure inviate il materiale all'indirizzo Girasole Chiocciola M2O.it Ciao ragazzi Rotto Voice Ciao Yes ci siamo Voce più bella d'Italia E io Yes Ciao Rotto M2O Un mondo allo stato puro